host 2019 ci troviamo allo stand di caffen una torrefazione napoletana attiva da oltre 50 anni e siamo in compagnia di assunta per cuoco alla seconda generazione questa è una delle torrefazioni più antiche di napoli bentornata grazie fabio bentornata solo una correzione siamo alla terza generazione all'interno di questa azienda sempre con grande grinta e con grande voglia di fare che cosa presentate qui a host 2019? diciamo che nuove presentazioni particolari non ne abbiamo riconfermiamo quello che sono i nostri prodotti tra cui una miscela per bar 100% arabica che è certificata EA e poi tutta la gamma per i distributori automatici e la linea del vending la linea del vending che è già predisposta per quanto vi riguarda per il private label sì è da circa un anno che lavoriamo sul private label e abbiamo grande soddisfazione perché i nostri clienti sono contenti del prodotto che noi diamo e hanno possibilità di scegliere tra una vasta gamma di colori e di possibilità di stampare il loro logo sulla confezione del monodose quindi cialdina oppure capsula che sia e per entrare in contatto con voi nel caso in cui ci sia qualcuno dall'altra parte che desidera fare un prodotto con il proprio marchio qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere? è un indirizzo molto semplice caffen.it vi daremo tutte le informazioni necessarie grazie Assunta è il momento di un buon caffen ecco a lei servito al banco come sempre grazie a tutti